Buonasera e bentrovati alla seconda edizione del Tg6. In apertura andiamo a Giulianova dove il sindaco Francesco Mastromauro ha voluto dimostrare la propria estraneità con i documenti e le carte alla nomina della dirigente comunale Mariangela Mastropietro arrestata nell'ambito della inchiesta Castrum condotta dalla Guardia di Finanze e coordinata dalla Procura di Teramo. Il primo cittadino si è detto deluso ed offeso per questa vicenda giudiziaria che ha sconvolto la cittadina teramana e chiede alla magistratura di fare luce su ogni piega di questa vicenda. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Giulianova è una città onesta, operosa e solidale. Estranea alla bufera giudiziaria che ha colpito il comune dopo l'arresto della dirigente Mariangela Mastropietro insieme ad altri imprenditori e tecnici. Lo afferma a Corato il sindaco Francesco Mastromauro che chiede alla magistratura di fare chiarezza fino in fondo e carte alla mano dimostra la propria estraneità alla nomina della dirigente arrestata. La individuazione dell'ingegnere Mariangela Mastropietro ha seguito la norma che è stata preceduta da delibere di giunta peraltro votate da assessori dell'epoca nel 2011 e 2012 dal vice sindaco Gabriele Filipponi agli assessori Mastrilli, Ruffini, Nadia Ranalli, Alfonso Vella, Archimede Forcellese e Nausica Cameli e poi che hanno dato l'atto di indirizzo per la procedura di mobilità esterna per coprire un posto che si era reso vacante perché l'allora dirigente che aveva vinto il concorso aveva accettato di trasferirsi a Francavilla legittimamente ma aveva lasciato il posto vuoto. Quindi poi una commissione esaminatrice che è stata appunto istituita dal dirigente dell'epoca, formata peraltro da un dirigente del comune di Teramo e del comune di Giulianova hanno esaminato le due domande pervenute nella seconda procedura perché la prima non aveva avuto esito positivo individuando nell'ingegnere Mariangela Mastropietro il dirigente. Lei è deluso? Delusissimo, io sono irato perché tutto questo non è bello, ripeto io sono il sindaco di questa città e questa città non lo merita. Io ho detto che però bisogna anche inserire in un quadro corretto tutta questa vicenda premesso che io dal primo momento ho detto che sono irato, offeso, deluso, una pagina bruttissima che la magistratura deve accertare fino nelle pieghe. Se ci sono responsabilità penali chi le ha commesse dovrà pagare e dovrà risponderne anche all'amministrazione comunale che è la parte lesa. Il sindaco Mastromauro riserva poi un passaggio sul presidente della Giulianova Patrimonio, Filippo Di Giambattista, oggi agli arresti domiciliari, scelto da lui attraverso un bando di selezione. L'architetto di Giambattista, dichiara Mastromauro, è accusato di fatti personali legati alla sua professione di architetto, nulla a che vedere con questa amministrazione e ha già rassegnato le proprie dimissioni. Ma l'opposizione attacca e chiede la testa del sindaco. Cambiamo argomento, novità per quanto riguarda il trasporto ferroviario in Abruzzo per la stagione estiva. Le novità sono state annunciate da Trenitalia con il direttore Abruzzo Marco Trotta che ha presentato il ventaglio degli accordi commerciali previsti per questa estate, sconti e promozioni per chi sceglierà il treno per visitare l'Abruzzo, il servizio di Paolo Renzetti. Sconti speciali per chi sceglierà di utilizzare il treno per raggiungere le località turistiche della regione e poi un accordo con Confcommercio Abruzzo. Queste alcune delle novità illustrate oggi dal direttore regionale di Trenitalia Marco Trotta che ha confermato la particolare attenzione delle ferrovie per la nostra regione. Trenitalia si candida come vettore ufficiale dell'estate abruzzese con lo scopo di promuovere e valorizzare tutte quelle che sono le eccellenze turistico-culturali di questa regione. Tutto questo per i nostri clienti, possessori di un biglietto regionale o di un abbonamento, avranno ad esempio la possibilità di godere delle spiagge, di pescare in Montesilvano con sconti privilegiati, partecipare ad esempio alla Giostra di Sulmona piuttosto che all'Aqualand del Vasto, di partecipare al premio Flaiano con il suo ricco programma cinematografico o entrare con sconti privilegiati a quelli che sono i musei dell'Aquila. Presentando il biglietto a quelli che sono tutti i partner dell'iniziativa, avranno la possibilità di soffrire di una scontistica privilegiata. Con Commercio Abruzzo abbiamo replicato quello che era un accordo già dello scorso anno che permette attraverso l'associazione dei ballinatori di poter fruire di tutte le strutture turistico-alberghiere di Pescara e di Montesilvano in maniera dedicata a quelli che sono i viaggiatori abruzzesi. Dall'11 giugno ci sarà il nuovo orario di Trenitalia, orari che vedranno un maggior numero di convogli nella nostra regione. Quest'estate l'offerta che è prevista è un'offerta che è sempre più calzante per quelle che sono le necessità turisti oltre che di casa lavoro, tipiche delle fasce pendolari, anche per le esigenze turistiche della nostra regione. Una forma di medigite non contagiosa secondo gli esami di laboratorio è quella che ha colpito un uomo residente a Tivoli da martedì scorso ricoverato nell'ospedale di Avezzano. In particolare dalle analisi è emerso che si tratta di meningoencefalite virale, esito che ha consentito quindi di escludere una infiammazione da meningococco. I medici del reparto di malattie infettive dell'ospedale di Avezzano che assistono il paziente fanno sapere che l'uomo già da ieri ha fatto registrare netti miglioramenti ed ha ripreso conoscenza. Ovviamente al momento del ricovero non conoscendo l'entità e l'entità della malattia sono state messe in atto tutte le procedure previste e dunque anche quelle di profilassi. Cambiamo argomento. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari torna a puntare la sua attenzione sul quartiere Fontanelle di Pescara, in particolare sulla situazione dei residenti in via caduti per servizio. Consigliere Pettinari, tornate a parlare e a puntare l'attenzione sul problema criminalità in Abruzzo, in particolare a Pescara siamo a Fontanelle che voi avete eletto come luogo simbolo della criminalità nella nostra regione. volete che si torni a parlare di tutto questo per far sì che venga fatto qualcosa? È un luogo dove lo Stato è andato via, lo Stato non c'è. Qui si spaccia droga ogni giorno, quotidianamente, soprattutto nelle ore notturne. I cittadini non ce la fanno più, ci sono atti intimidatori, ci sono situazioni delinquenziali di emergenza. La gente non ce la fa più addirittura. Qui, come dico io, la criminalità si è anche voluta perché adesso quando occupano gli alloggi popolari si autodenunciano dicendo siamo entrati all'interno dell'alloggio, però dicendo che l'hanno trovato la porta aperta. C'è una differenza tra chi sfonda e chi trova la porta aperta. Chi trova la porta aperta è un occupante senza titolo, non è un occupante abusivo. Quindi le procedure di sfratto saranno molto molto più lunghe, quindi magari vengono anche consigliati da qualcuno. Ci rivergiamo a una serie di istituzioni, alla regione Abruzzo in quanto proprietaria di queste case, al sindaco di Pescara, al prefetto in quanto autorità di sicurezza. Perché? Perché qui si devono parlare, devono colloquiare assieme per fare azioni midate di repressione sfratto degli abusivi. La maggior parte degli abusivi sono criminali pruri pregiudicati che detengono il potere in questa zona, non solo in tante altre zone della nostra provincia e della nostra legione. E poi un sistema di recupero sociale, del tessuto sociale. Abbiamo bisogno di un team di psicologi e sociologi che vanno a recuperare i tanti giovani abbandonati. Qui addirittura, qui vicino, vediamo una palestra, è stata inaugurata, da tanti anni è rimasta così, in abbandono. Non può essere fruita dai ragazzi e i ragazzi continuano a stare in mezzo alla strada. Quindi c'è tutta una serie di proposte che noi abbiamo fatto in iniziative. È arrivato il momento che lo Stato torni in questi posti. Anche in Abruzzo con l'inizio della piena attività primaverile per frutta ed ortaggi e SOS nelle campagne dove servono alternative ai voucher per garantire i raccolti e non perdere opportunità di lavoro per centinaia di giovani studenti pensionati e casse integrati impiegati in agricoltura nell'attività stagionale. Col diretti Abruzzo sottolinea la necessità di individuare una valida alternativa che possa rispondere alle stesse esigenze delle imprese e dei lavoratori per non perdere le opportunità occupazionali. L'impiego dei voucher in agricoltura, sottolinea la Col diretti, è praticamente stabile da cinque anni perché è l'unico settore rimasto incatenato all'originaria disciplina sperimentale con tutte le iniziali limitazioni. In agricoltura, conclude la Col diretti, sono stati venduti nel 2016 solo 2.210.440 voucher addirittura in calo rispetto all'anno precedente e più o meno gli stessi del 2012 per un totale di oltre 380.000 giornate di lavoro che hanno aiutato ad avvicinare al mondo dell'agricoltura i giovani studenti a mantenere attivi molti anziani nelle campagne. Ed ora ci spostiamo a Lanciano dove sono forti le polemiche per la decisione dell'amministrazione comunale di cancellare i fasci elittori sul teatro Fenaroli. Sentiamo il servizio. Prima la performance artistica alla vigilia del 25 aprile, poi la petizione con 430 firme e nel giro di un mese arriva la decisione del sindaco coprire i fasci elittori della facciata del Fenaroli di Lanciano. La festa di liberazione per il teatro comunale si celebra sabato mattina alle 9, ad annunciarlo il primo cittadino. I fasci, dice Mario Pupillo, saranno coperti da un drappo in attesa del parere della sovrintendenza alla quale spetta la parola definitiva in merito. L'iniziativa è stata programmata per il 27 maggio, nel giorno della festa nazionale antifascista promossa dall'AMPI. Ed era stata proprio la presidente della sezione locale dell'Associazione Nazionale Partigiani, Maria Saveria Borrelli, consigliere comunale del Partito Democratico, a chiederne per prima la rimozione. In città non sono mancate le polemiche da parte di Casa Pound, che a nottetempo ha esposto uno striscione d'accusa nei confronti del sindaco. Teatro Fenaroli, due punti, Pupillo uguale Isis. Un'equazione che non è passata inosservata in città. Tutte le varie componenti della maggioranza hanno espresso solidarietà al primo cittadino, condannando il gesto. Storicamente è acclarato che quel simbolo è posticcio, voluto dall'ex sindaco Nicola Fosco al termine dei lavori di restauro del teatro negli anni 90. Andiamo all'Aquila, uno sguardo sul cantiere più grande d'Europa. Dal 30 maggio al primo di giugno, nel capoluogo di regione, torna l'appuntamento con Officina L'Aquila. Sentiamo il servizio di Daniela Rosone. Torna la tre giorni dedicata a Officina L'Aquila, incontri internazionali di restauro e rigenerazione urbana. Da martedì 30 maggio a giovedì 1 giugno, uno sguardo di ampio respiro sull'Aquila, la sua ricostruzione, ma non solo. I visitatori, nelle giornate di mercoledì e giovedì, saranno accompagnati nei principali cantieri cittadini. Palazzo Notarnanni, Palazzo dell'Arcive Scovado, Palazzo Carli Porcinari, Consorzio Carispa, Palazzo Camponeschi e Teatro Comunale. Obbligatoria la prenotazione. Nel pomeriggio del 30 maggio una novità è rappresentata dall'inserimento del tema la comunicazione nelle emergenze, che sarà trattata da diversi giornalisti nazionali ed esperti. Officina L'Aquila è diventata un punto di riferimento sulla ricostruzione, tant'è che proprio nella scorsa estate anche il New York Times ha citato Officina come uno degli elementi importanti della ricostruzione aquilana. Quindi ci sarà questo giro di giornalisti nei cantieri, ma poi si discuterà per la prima volta della comunicazione nell'emergenza. Con giornalisti di Sky che hanno partecipato a ricostruzione di qui, di altri che hanno partecipato ai temi di Lione, con giornalisti locali e nazionali e internazionali, si discuterà di cosa è accaduto all'Aquila, di come è stata trattata da un punto di vista di comunicazione la ricostruzione aquilana, perché questo può diventare anche uno strumento di conoscenza utile a migliorare il rapporto con i mezzi di comunicazione in un momento in cui l'Aquila deve ancora affermarsi come soggetto importante di una ricostruzione di qualità. Gli altri temi trattati nei restanti due giorni saranno l'Aquila Smart Historical City, l'Aquila Città Sicura e Officina Next Territorio Restauro e Turismi. Per il presidente del Dancio e Baratelli si tratta di un'occasione unica per mostrare il modello l'Aquila al resto del mondo, anche se purtroppo i dati sulla ricostruzione pubblica non sono affatto buoni. Il nodo irrisolto sul quale siamo molto preoccupati è quello della ricostruzione pubblica. È un tema che sta deflagrando anche nella campagna elettorale, come avete sicuramente notato, le scuole che sono rimaste al palo, gli uffici pubblici che sono rimasti al palo. Ci vuole un intervento straordinario e lo può fare solo il governo centrale. Il governo centrale deve riaccendere l'attenzione, il prossimo sindaco dovrà parlare molto, dovrà fare molti viaggi a Roma per chiedere delle norme specifiche per la città. L'area marina protetta a Torre del Cerrano ha ottenuto un finanziamento europeo per il progetto Dipinto Cerrano. Sentiamo di cosa si tratta nel servizio. Educazione ambientale, ricerca scientifica, laboratori di biologia e archeologia, visite guidate, museo del mare, biblioteca del mare, sono alcune delle azioni che la MP, l'area marina protetta a Torre del Cerrano, metterà in campo sinergicamente per raggiungere l'obiettivo nel progetto Dipinto Cerrano, che mira a definire un prodotto turistico di elevata qualità basato sul miglioramento dell'offerta esistente attraverso la tutela e la riqualificazione degli ambienti naturali. Si tratta di usare una progettualità innovativa che dalle opere di riqualificazione ambientale delle dune, delle pinete e del giardino mediterraneo passa attraverso i servizi e gli strumenti per l'approfondimento della conoscenza della natura. È un progetto, è un band Porfers, a cui abbiamo lavorato da un anno a questa parte. È una progettazione che abbiamo fatto, diciamo, tra virgolette, tutti in casa con i nostri collaboratori, soprattutto in collaborazione con l'istituto zooprofilattico Abruzzo e Molise. La cosa bella che ci piace è che il cofinanziamento previsto dal bando ce lo siamo fatti tutti in casa, nel senso che non abbiamo chiesto soldi ai due comuni, alla provincia e alla regione. È un progetto che mira, da una parte, al miglioramento delle condizioni ambientali, quindi al miglioramento della tutela ambientale di tutto quello che è l'ecosistema dell'area marina. Dall'altra parte, cerca di dare una migliore fruibilità a chi viene in area marina. Che stato di salute vive l'area marina protetta, anche in vista della bella stagione? Direi che lo stato di salute dell'area marina è buono. Certo, niente è perfetto, tutto è perfettibile. Stiamo facendo anche altre iniziative per un monitoraggio delle acque, non solo a mare, quello lo fa già l'Arta, ma anche a terra, quindi sui fossi torrenti e soprattutto sugli scoli, sempre con un protocollo con l'Istituto Sperimentale Zoprofilattico, proprio perché non vogliamo farci cogliere di sorpresa e anzi prevenire per evitare che ci possano essere eventi negativi sulla qualità delle acque. Il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, ha firmato l'ordinanza che rimuove il divieto di balneazione per l'area antistante Fosso-Vallelunga. Si attende il via libera della regione anche per la rimozione dei divieti in via Galilei. Intanto il 31 di maggio sarà attivato un tavolo di coordinamento sulle attività di depurazione. Sul litorale la stagione ufficiale è partita con tre divieti temporanei imposti dalla regione come da normativa in base ai dati del 2016, dicono il sindaco Alessandrini e l'assessore al De Magno Scotolati. Quindi abbiamo chiarito, continuano sin dall'inizio, che se i valori fossero migliorati avremmo chiesto alla regione l'autorizzazione a rimuovere i divieti. Restiamo sempre a Pescara. Le associazioni On The Road e Punto Zero hanno illustrato le iniziative che metteranno in campo da fine mese. In programma una serie di incontri per parlare di economia e disuguaglianze sociali, prevista anche la proiezione di un film. Voi sempre più impegnati sul territorio per queste nuove povertà, per una situazione che si fa sempre più difficile, anche nella nostra città? C'è l'esigenza intanto di realmente parlare di quelli che sono i costi umani e con che dire la crisi. La percezione che questa crisi c'è dura e dura da molti anni. Poi però contestualmente non si operano interventi realmente incisivi e si ha la tendenza a percepire le risorse che vengono spese nel mondo sociale come costi e non invece percepirli come forme di investimento per riattivare anche microeconomie. Ogni volta che io spendo dei soldi per lavorare verso il reinserimento, l'inclusione sociale di qualcuno, lavoro per aumentare la sicurezza e per far tornare quel cittadino da fruitore passivo di servizi a un futuro contribuente. Questo è il primo incontro che riteniamo importante perché c'è una proiezione abbinata del documentario PIGS che sta girando da 5 settimane dopo l'uscita il 27 aprile in tutta Italia e che parla proprio di una cooperativa sociale, il Pungiglione di Monte Rotondo che a causa della crisi subirà dei tagli che sono importanti, manderà a casa 100 lavoratori e lascerà senza assistenza 150 disabili. La stessa cosa succede qui sul territorio dove ci sono stati importanti tagli al sociale proprio a causa dell'austerità imposta da politiche europee che ovviamente l'Italia non può contrastare perché ci vengono imposte e quindi sono una perdita della nostra sovranità. Noi pensiamo che bisogna iniziare a ragionare su quello che è veramente la causa della crisi che riteniamo sia proprio l'applicazione di queste politiche di austerità. Il film ne parla molto concretamente e poi ci sarà il regista Federico Greco che ci parlerà proprio di tutta la realizzazione del documentario. Questo documentario poi sarà l'inizio, la proiezione e il dibattito di una serie di incontri sull'economia e sulla politica e soprattutto su come l'economia ha soggiogato la politica quando invece dovrebbe essere il contrario. Il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio ha consegnato dei fondi a tre associazioni aquilane ricordando quanto fatto dal 2009 sino ad oggi. Un bilancio positivo, quello tracciato dal presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio sulle attività della Fondazione Abruzzo Risorge Ols ormai estinta. Una fondazione costituita nel 2009 dopo il terremoto con i proventi provenienti da donazioni ricevute da consiglieri e assessori della regione Abruzzo, da altre regioni, da enti e associazioni varie. Diverse le attività svolte dal 2009 al 2013 come ad esempio la concessione di contributi a comuni e l'associazione del cratere del sisma del 6 aprile 2009 per interventi di costruzione, ricostruzione o riparazione di centri di aggregazione sociale ed impianti sportivi ad uso prioritario di giovani bambini. Questo per un totale di oltre 522 mila euro. All'Aquila gli interventi principali hanno riguardato la costruzione del palazzetto del mini basket, il recupero della pista di pattinaggio di verde acqua, la costruzione degli spogliatoi del circolo tennis, la riparazione del campo di calcetto di Capitignano, la riparazione del campo sportivo di Montereale, a Civitella Casanova la riparazione della piscina, a Paganica la riparazione di due campi da tennis, la riparazione del campo sportivo del San Gregorio e per quanto riguarda il Cus l'Aquila la costruzione dello spogliatoio con fondi provenienti dal Consiglio regionale del Lazio. E poi sono state erogate borse di studio in favore degli orfani che a causa del sisma hanno perso uno e entrambi i genitori per un totale di oltre 209 mila euro. Sono stati concessi contributi a varie associazioni e scuole per iniziative sempre legate al sisma per un totale di 47 mila euro. È stato ricostruito l'orfanotrofio Casa Famiglia Immacolata Concezione di San Gregorio distrutto dal sisma con i fondi della regione Campania per un milione di euro. Il patrimonio residuo della fondazione è stato erogato alle seguenti associazioni. Oggi in conferenza stampa il Presidente del Consiglio regionale di Cancrazio ha dato loro i bonifici. Fondi per l'Aquila per la Vita Ollus Associazione Fraterna Tau e Associazione Abitare Insieme Ogni associazione ha avuto un contributo pari a oltre 25 mila euro. A Francavilla il Cenacolo Michettiano è in mostra dal titolo Nella gioia del sole appuntamento al MUMI mostra che sarà visibile dal 1 giugno al 23 luglio Vediamo Dipinti, sculture, documenti, autografi e pannelli didattici visitabili fino al prossimo 23 luglio salvo proroghe E' la mostra Nella gioia del sole Michetti e il Cenacolo di Francavilla organizzata dal Comune di Francavilla al Mare in collaborazione con il Polo Museale d'Abruzzo che sarà inaugurata al Museo Michetti il 1 giugno. La rassegna ospiterà più di 120 opere realizzate dai protagonisti del Cenacolo Michettiano e avrà come punto centrale l'opera dell'artista francavillese Francesco Paolo Michetti come spiega Lucia Arbace direttore del Polo Museale d'Abruzzo I intellettuali che arrivarono qui a Francavilla sono nomi notissimi Gabriele D'Annunzio Francesco Paolo Tosti che era diventato il musicista alla corte del re d'Inghilterra e nominato Sir Costantino Barbella la coppia Matilde Serau e Edoardo Scarfoglio che erano i protagonisti del giornalismo a Napoli e a Roma ed altre figure di rilievo La mostra non esibisce soltanto dipinti o sculture ma anche documenti, volumi, spartiti un apparato didattico e proiezioni per renderlo di efficace comprensione a un pubblico ampio per far capire a tutti quanto è stato importante Francavilla e questo nucleo di menti geniali in quegli anni e come l'Abruzzo abbia avuto un ruolo importante nella scena artistica Adesso apriamo la pagina sportiva iniziamo dalla Serie A e dal Pescara la dirigenza del Delfino è al lavoro per allestire la squadra del prossimo anno la presenza di Zeman incentiva le big del campionato italiano a cedere in prestito alcuni dei prospetti migliori domenica intanto a Firenze i biancazzurri chiuderanno il campionato di Serie A il servizio di Andrea Costantini Grandi manovre già in atto da tempo per costruire il Pescara del futuro quello che cercherà l'immediata risalita nella massima serie con Zeman per l'attacco idee chiare e sviluppi già interessanti la trattativa con la Juventus per Coulibaly ha aperto una strada che porta dritto a Simone Andrea Gans di proprietà dei Bianconeri e reduce da una stagione a Verona il Milan invece potrebbe girare sempre in prestito il 18enne Luca Vido che si è messo in mostra con il Cittadena negli ultimi mesi e che potrebbe proseguire il suo percorso di crescita con Zeman si torna a parlare anche di un vecchio pallino della dirigenza biancazzurra Francesco Ciccio Caputo che poteva venire a pescare dopo l'addio al Bari la pista potrebbe riaprirsi dopo due positive stagioni con la Virtus Entella per il centrocampo Zeman potrebbe già avere in casa il regista a cui affidare le chiavi della squadra dopo tre mesi di inspiegabile preclusione nelle ultime settimane Gaston Brugman sta convincendo il Boemo dato per assodato che Coulibaly anche qualora venga ceduto resterà in riva all'Adriatico incognite ci sono intorno al capitano Leyan Memushay che ha altri quattro anni di contratto se ci sarà la giusta offerta Empoli e Bologna potrebbero farla il centrocampista albanese potrebbe andare via come faranno gli altri componenti del reparto per cui non c'è futuro in biancazzurro in entrata oltre allo juventino Simone Vitale salgono le quotazioni di Andrea Palazzi di proprietà dell'Inter quest'anno in prestito alla Provercelli in difesa Zampano e Biraghi sono pezzi da mercato si riparte da Bovo che sarà il leader del reparto nell'asse con l'Inter può rientrare il giovane difensore belga Zinho Fanoisden in un clima pre-vacanziero la squadra prepara l'ultimo match dell'anno al Franchi di Firenze contro la Fiorentina di Paolo Sousa partita che non serve a nessuno col Delfino che chiuderà l'ultimo posto e i Viola che si giocano il platonico settimo posto con l'Inter direzione di gara affidata al debuttante Martinelli di Roma 2 In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport l'allenatore del Pescara Zeman ha parlato anche del suo futuro legato a quello di una eventuale cessione societaria alla domanda Sebastiani è finito nel mirino della contestazione se il presidente lascerà chi ne sarà di Zeman a Pescara? Il tecnico Boemo ha risposto o il contratto anche per la prossima stagione? Vedo Sebastiani fortemente motivato a riscattare questa andata negativa non immagino ha concluso il Boemo al momento uno scenario diverso da quello attuale D'ora scendiamo in Lega Pro probabile ritorno al classico 4-4-2 per il Teramo nel decisivo match del Bonolis domenica prossima nella gara di ritorno del play-out contro il Lumezzane uno tra Fratangelo e Barbuti affiancherà Sansovini il centrocampista Madio torna sulla gara di domenica scorsa e poi si proietta su quella di Piano Daccio sentiamo Io personalmente ho sentito un po' la partita è uscita una partita un po' così nonostante questo penso che a livello di squadra abbiamo avuto delle occasioni importanti che se sfruttate come dovevamo non stavamo a parlare di un vantaggio importante in vista della gara di ritorno 4 gol divorati prendere gol prima dell'intervallo andare a riposo in quella situazione potevate crollare del tutto poi vi siete ripresti Sì, è stata una bella ammazzata sinceramente dentro gli squadatori c'era un po' di confusione però siamo riusciti a compattarci alla grande siamo usciti secondo me meglio al secondo tempo ci siamo alzati un po' come baricentro la partita è andata un po' meglio abbiamo avuto subito questa occasione del pareggio e poi penso che in contropiede si è sfruttato meglio potevamo anche raddoppiare avevamo preparato diciamo la partita pensando che loro si schierassero in un'altra maniera secondo me hanno fatto una sorta di 3-3-4 molto offensivo e secondo me lo interpretavano anche molto bene nonostante concedevano l'uno contro uno nei tre difensori loro contro i tre attaccanti nostri però diciamo che un po' loro impianto di gioco l'abbiamo accusato poi abbiamo preso le misure piano piano è andata meglio ma la temo perché è una partita particolare comunque un play out e sei a zero a tutto come ti ripeto l'andata è stata una partita che abbiamo avuto tante occasioni il primo tempo è finito un a zero per loro il secondo tempo abbiamo fatto un po' meglio abbiamo avuto meno occasioni quindi può succedere di tutto e credo sia fondamentale l'atteggiamento e la cattiveria dall'inizio non concedere nulla e essere cattivi in fase offensiva è normale che sia noi che loro abbiamo paura di retrocedere se sbagli qui qui non c'è non c'è ritorno con la differenza scusami che il Teramo non era costruito per salvarsi all'ultimo mentre Lumezzane probabilmente sapeva di fare quel campionato sì ma questo conta poco perché poi è comunque una partita di calcio è chiaro che chi sbaglia retrocede è normale che ci sia tensione e paura bisogna trasformarle in energia positiva in cattiveria due giorni di competizioni per i titoli provinciali di Freccette domani e dopodomani presso il ristorante Latana di Rosciano in provincia di Pescara si svolgeranno i campionati provinciali a squadre serie master e amatori e la finale provinciale categorie A, B, C e D e femminile la giornata è organizzata dalla Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali e dalla ASD Freccette Italia inizio previsto domani pomeriggio alle ore 15 chiusura domenica pomeriggio con la finalissima delle ore 17 è tutto anche per la seconda edizione del TG6 il prossimo appuntamento con la nostra informazione è alle ore 23 grazie per essere stati con noi vi auguro una buona serata grazie a tutti